Salve ragazzi, mi trovo come vedete su Ubuntu, ma è Ubuntu un po' vecchiotto, un LTS che è l'LTS 10.04, io ho scaricato la ISO 10.04.04, che era l'ultimo rilascio aggiornato della release che vi sto descrivendo, ed è la Lucid, da tanti descritta come la LTS migliore che Ubuntu abbia mai rilasciato, ovviamente del 2010, e in questo filmato mi chiedo se si può utilizzare nel 2017 questa distribuzione. Io l'ho installata e devo dire che la sto utilizzando, se c'è qualche problema magari nella navigazione, perché ho problemi ad aggiornare, anche se già l'ho fatto, ho problemi ad aggiornare Firefox. Ho provato con altri browser, ma non sono in grado di supportare le tecnologie del 2017, per quanto riguarda il multimediale. Come fare quando si utilizza un rilascio così vecchio? Sapete, non è più supportato ovviamente, perché era supportato per tre anni, quindi questo rilascio ormai nel 2013 è stato abbandonato dalla Canonical. e cosa bisogna fare? Ecco, ovviamente i repository, quindi il sucher list, apt-t praticamente, sapete che si trova questa lista dei repository del rilascio che si installa, c'è un server in Canonical dove è riservato appunto tutto quello che riguarda il rilascio, quindi la distribuzione che si usa. Nel caso appunto di questa distribuzione, la 10.04, la Lucid, praticamente, dopo aver perso il supporto, si trova in un server dove sono collocate tutte le distribuzioni che non sono più supportate, la 8.04, la 8.10, sono alcuni esempi che vi faccio, la 9 e così via. La 10.04 fa parte delle old release, quindi dei vecchi rilascio. Questi vecchi rilasci, per poter installare dei programmi, perché sapete benissimo, essendo più supportate, i repository non vi danno più la possibilità di utilizzare il pacchetto per installare, o il software center, quindi praticamente siete possetti a rimanere con i programmi che trovate, non potete installare più niente. altresì, neanche aggiornare. Ora, bisogna andare praticamente dove c'è una pagina. Ora, io praticamente vi sto parlando dalla mia cellulare, quindi io farò il video dopo, quindi se ci sono incongruenze con il video che state vedendo, è perché io sto parlando, prima sto registrando e poi farò il video. e farò il video seguendo la mia voce. Dovete andare dove ci sono i repository che si chiamano, scusate che non ci vedo bene, si chiamano EOL, quindi sono appunto, EOL è l'acronimo di End of Life, praticamente fine della vita, sono praticamente il repository dove si trovano appunto le non supportate. Andate nella pagina, che poi vi lascerò magari in descrizione sotto il video, è la pagina proprio ufficiale Rubunto, dove ci sono appunto le EOL, che sono appunto i rilasci vecchi e non supportate. Per chi non sapesse, ve lo dice anche il sito qua, per chi non sapesse che il rilascio, come si chiama il rilascio, quindi l'acronimo del rilascio, o il nome, insomma, il codename del rilascio, deve digitare dal terminale, apre il terminale e digita, praticamente list.release trattino, scusate che non ci vedo, trattino dc, una prossima volta mi metto gli occhiali, e praticamente vi da, facendo un invio nel terminale, vi da esattamente quale è il rilascio, nel mio caso lucid, e vi dice codename lucid, potrebbe anche essere karmic, come nell'esempio della pagina, e dopodiché andate a fare sudo etc aptisource.list e si apre l'editor di testo, che nel caso di Ubuntu è Gated, si apre l'editor di testo, e ci sono tutte, diciamo, le varie string, del server che ha i depositi, della vostra distribuzione, cancellate quello che c'è nell'etc socialista, dove c'è appunto questo editor di testo, e prendete, fate copia e incolla da questo sito, e praticamente andate a copiare e incollare queste stringeri qua, ve le faccio vedere, ora spero che nel video vada incontro alla mia parola, ve le faccio vedere, e a posto di codename, praticamente ci mettete il nome della distribuzione, che non è supportata, salvate il documento, e poi praticamente fate sudo apt-get update, e poi upgrade, dopodiché vi da la possibilità, usando il terminale, il gestore pacchetti, praticamente si riavviva, date un po' di vita, di nuovo, a questa distribuzione, che attingerà nel suo server old release, nel suo server, ci sarà appunto, attingerà i programmi, del tempo in cui si trovava, facendo update, e così via, si aggiorneranno i programmi, fino alla fine del suo supporto, quindi mettiamo che la mia è la 10.04, dal 2010 al 2013, quindi ad esempio, Firefox, l'ho trovato alla versione 6 e qualche cosa, e si è tornato fino alla versione 20, la 6 era inutilizzabile, mentre la 20 bene o male, riesco a navigare, anche se alcune file multimediali, non riesco a vederli, ma vedo benissimo YouTube, posso anche navigare, posso accontentarmi, potete installare tutti i programmi del tempo, che si utilizzano anche adesso volendo, perché parliamo del 2013, quindi potete installare, come ho fatto io, che sono OpenShot, potete utilizzare, invece di Kazami, perché al tempo, era all'inizio della sua evoluzione, potete magari installare il record MyDesk, per registrare lo schermo, oppure, e poi potete anche, praticamente installare tanti altri programmi, io ho installato a BWord, ho trovato OpenOffice, Org, OpenOffice, scusate, la suite Office, OpenOffice, che al tempo LibreOffice, ancora non era stata presa da un punto, però devo dire che, va bene anche così, cosa importante, il mio computer, anche pure i suoi sette anni, quindi il mio computer, avendo la NVIDIA, come scheda video, avendo la NVIDIA, integrata, la NVIDIA, ho trovato, ho potuto praticamente, installare i driver grafici, della NVIDIA, che sono proprio adatti al mio computer, quindi, ora vi farò vedere nel filmato, il monitor di sistema, vedrete che consuma pochissimo, io magari aprirò il Firefox nel filmato, spero sempre che la mia voce vada avanti insieme al filmato, e vi faccio vedere i consumi, se noi pensiamo che adesso il Firefox da solo consuma 500 MB, potete vedere che, con il Firefox aperto, e il sistema operativo, e la registrazione, perché c'è anche quella, siamo ben al di sotto, della media attuale, dei sistemi operativi, io ho l'Ubuntu installato da un'altra parte, un'altra parte, e devo dire che la pentola, si accende anche con l'Ubuntu, sul riscaldo, vi farò vedere anche la temperatura, che si mantiene abbastanza, non dico bassa, ma non è a livelli, degli sistemi operativi, degli ultimi rilasci, che installo nel mio computer, ripeto, qua non sul riscaldo, funziona tutto bene, e devo dire che i programmi che ci ho installato, sono quelli che uso io, e non ho bisogno di altro, l'unico problema appunto, è il Firefox che si è fermato al 20, che non mi consente di fare alcune cose, ma devo dire che le cose basilari riesco a fare, la lettura delle mail, andare su Facebook, andare su YouTube, vedere i filmati, si vedono anche in HTM 5, quindi non, con tutto per 20 riesco a vedere i filmati in HTM 5, quindi praticamente dal titolo, che ho messo nel filmato, posso affermare da quel titolo, che Ubuntu 10.04, attualmente si può sempre utilizzare, cioè nel momento, nel 2017, possiamo anche usare Ubuntu 10.04, ovviamente qualcuno dirà, non ci sono gli aggiornamenti di sicurezza, mettete di lato questo, pensate che funzioni, il mio obiettivo era questo, vedere se funzionava nel 2017, se era utilizzabile, non se funzionava, se era utilizzabile nel 2017, devo dire che lo utilizzo ancora meglio, delle 16.04, che ripeto, come dicono tanti, lo ha detto anche, una persona molto seguita, un certo Marco Box, che gli ultimi rilasci non sono un granché, devo dire che la 10.04 è veramente il rilascio, forse il miglior rilascio che appunto abbia mai fatto, prima dell'avvento, riuniti, chiudo a qua il filmato, perché si è fatto abbastanza lungo, poi dopo questa registrazione audio, non so se sto dimenticando qualcosa, dopo questa registrazione audio, farò il filmato, cercherò di farlo al meglio, spero abbiate seguito bene il filmato, perché è abbastanza lungo, quindi andate nel sito dove vi ho detto, che è il sito ufficiale Ubuntu, dove ci sono le E.O.L., che sono l'End of Live, quindi tutte le rilasci che hanno finito la loro esistenza, informaticamente parlando, e qua cancellate quello che c'è nella social list e incollate le stringhe che vedete qua, e potete configurare il sistema operativo, installare i programmi che più vi interessano, vi ripeto, io per quanto riguarda audio, video, ho installato quello che mi interessava, quindi OpenShot, RecallateMadeScope, poi cosa c'è praticamente, poi vabbè grafico, ho installato con lockpaint, ho installato programmi che altrimenti non potevo installare, doveva accontentarmi di una distribuzione vuota, semi vuota, da non poter utilizzare. Ripeto, distribuzione ampiamente utilizzabile nel 2017. Un saluto a tutti da Salvatore, a un prossimo filmato, dalla mia stanza personale, che non vi dico qual è, a un prossimo video, per quanto riguarda sempre, chissà il giochino Linux, sono qualche cosa, dovevi, va, ciao ciao a tutti.